Salve amici e bentornati sul mio canale Oggi voglio farvi un video di aggiornamento dopo un anno su YouTube Anche se la mia iscrizione nelle informazioni risale al 2014 Beh, ho cominciato questo percorso esattamente un anno fa Un anno fa ho pubblicato il mio primo video che trovate qui in alto Come sapete tutto è nato come una sorta di scommessa Una scommessa, possiamo dire, con me stesso Parlare al pubblico non è sempre facile Quindi ancora di più su un canale dove comunque sei l'unico a dover intrattenere chi ti guarda Ma ho cercato sempre di migliorare sia i video sia l'esposizione Grazie anche ai consigli che mi arrivano sia nei vostri commenti Sia comunque anche dagli altri social Lo consiglierei a chi ha un hobby A chi magari come me sta studiando giurisprudenza Di aprire un canale Di starci dietro Di comunque pubblicare dei video Non tutti i giorni Ma un po' come faccio io Tre, quattro volte a settimana Sì perché dalla propria passione Magari si riesce o si riuscirà comunque a guadagnarci Anche a farci una piccola entrata mensile Che poi comunque è lo scopo di chi comincia a fare dei video su YouTube O comunque ad utilizzare i social in maniera assidua Bisogna però essere consapevoli che questo traguardo si raggiungerà con tanti sacrifici E c'è chi dice che fare i video non comporti dei sacrifici Perché comunque sei lì che parli davanti alla telecamera Beh invece non è proprio così Perché nel mio caso ad esempio Prima di andare a montare un video Devo andare a studiare, ripassare, esporre correttamente Ciò che voglio poi venga visto dal pubblico di YouTube Quindi non è così semplice Non è così scontato Ad oggi siamo al 27 di ottobre E abbiamo raggiunto Anzi abbiamo superato la soglia dei 1000 iscritti Siamo a circa 1140 iscritti Io ringrazio tutti coloro che mi hanno seguito Che mi hanno supportato e che mi hanno sopportato Soprattutto durante questo percorso Perché vi assicuro che le paranoie Soprattutto all'inizio vi assaliranno Ma scompariranno ben presto con la pubblicazione del secondo, terzo, quarto, decimo video Ma tornando al canale Che è la cosa che più ci interessa Ancora non ho raggiunto la monetizzazione Che per chi non lo sapesse Sì, debbono avere quattro requisiti Ma i più importanti sono i 1000 iscritti E 4000 ore di visualizzazioni Nell'arco temporale di 365 giorni Un'altra cosa importante è quella Relativa alle segnalazioni dei copyrights Ovviamente non dobbiamo andare a caricare dei video Che siano di altre persone Quindi di terze parti Anche perché YouTube lo bloccherebbe all'istante Il consiglio che posso darvi È quello di andare sempre a pubblicare un video Anche una volta a settimana va benissimo Ma bisogna che siamo attivi Come in ogni social È importante essere costanti Ma perché è importante? È importante perché possiamo crescere Chi si iscriverebbe mai ad un canale Che pubblica un video al mese Un video ogni due mesi Non suscita interesse Quindi non possiamo crescere È importante soprattutto all'inizio Spargere la voce tra amici, familiari Farvi seguire, lasciare like Condividere con a loro volta altri amici Così da poter risalire Nelle gerarchie dei video consigliati Agli utenti di YouTube Questa è un'altra cosa Veramente molto 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 importante Musica 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 Grazie per la visione!